Gli originali sono esposti al Museo dell'Ermitage di San Pietroburgo e alla National Gallery of Scotland di Edimburgo. Questi sono i gessi delle due versioni delle Tre Grazie di Antonio Canova, una delle sculture più note al mondo. Il ripristino dei gessi, usati dal maestro per realizzare le due opere, una commissionata dalla moglie di Napoleone, Josephine de Bernier, la seconda realizzata su commissione del Duca di Bedford, che ne volle a tutti i costi una copia dopo aver visto la statua a Parigi, è un evento che a Possagno, dove a sede la Casa Natale di Canova, oggi museo, è stato festeggiato con una mostra molto apprezzata dal pubblico. È qui che il maestro lasciò il gesso originale, su cui aveva lavorato per creare la prima versione delle Grazie, riproducendo la levigatezza dei marmi stendendo una patina in cera d'api. A Possagno giunse per essere conservato anche il gesso tratto dalle Grazie inglesi. Durante la Prima Guerra Mondiale, i bombardamenti in questa zona, teatro di guerra, provocarono però vistosi danni sui gessi. Il modello francese venne subito restaurato dai fratelli Stefano e Ciro Serafin, custodi della casa e abili restauratori. Quello inglese, invece, venne posizionato nell'aula del Consiglio di Possagno. Le lesioni sui busti e i volti, in un'opera immacolata, che rappresenta lo splendore, la gioia e la prosperità, evocavano proprio l'orrore della guerra. Un secolo dopo, grazie alla tecnologia, è stato possibile restaurare anche questo secondo gesso. Le National Galleries of Scotland di Edimburgo, proprietarie del prezioso marmo, hanno consentito una scansionatura di tutta l'opera completa originale. E questo, grazie all'elettronica, ha permesso di ricomporre le parti mancanti del gesso di Possagno. Non dimentichiamo che Canova è il primo ministro dei beni culturali italiano, quello che scrive il primo decreto di tutela del patrimonio dello Stato e della Chiesa. Canova è il primo teorico del restauro che dice non si deve intervenire sul restauro dei marmi Elgin del Partenone. E poi Canova è un diplomatico raffinatissimo. Una tecnica già sperimentata sulla danzatrice di Canova, anch'essa deturpata dalla guerra. 35.000 persone hanno visitato in questi mesi la mostra, un successo che conferma il ruolo strategico della Fondazione Canova in questo territorio, fondazione che in questi giorni ha promosso anche l'iniziativa Premio Locanda da Gerry, dedicato in questa sesta edizione all'ex campionessa di ciclismo su strada Alessandra Cappellotto, prima donna a ricevere questo riconoscimento. Abbiamo anche una bellissima idea, noi vogliamo organizzare un convegno su cosa le guerre, i danni che hanno fatto le guerre all'arte.